Pace bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Questa seconda domenica di avvento si incontra con la solennità dell'immacolata concezione. Visto il tempo liturgico, vogliamo guardare a Maria Immacolata, piena di grazia, nostra tenera madre e modello di credente, cercando di imparare da lei un'arte, spesso trascurata eppure fondamentale, l'arte di saper attendere. Vediamo in particolare tre punti. Contempliamo Maria come vergine dell'attesa, l'importanza del saper attendere a livello umano e poi a livello spirituale. Primo punto. Don Tonino Bello ha definito la vergine Maria come la vergine dell'attesa. Nel testo dell'Annunciazione, che meditiamo questa domenica, prima ancora che l'evangelista Luca ci dica che il suo nome era Maria, afferma che in quel tempo l'angelo Gabriele venne mandato ad una ragazza promessa sposa ad un uomo di nome Giuseppe della casa di Davide. Maria era promessa sposa, cioè fidanzata, era dunque in attesa del matrimonio, di completare l'iter sponsale secondo l'uso ebraico. Don Tonino Bello dice che era anche in attesa, in ascolto. Ma di chi? Di lui, di Giuseppe. Era in ascolto del frusciare dei suoi sandali sulla polvere la sera, quando lui, profumato di vernice e di resina dei legni che trattava con le mani, andava da lei e le parlava dei suoi sogni. L'attesa è la prima pennellata con cui San Luca dipinge Maria, ma è anche l'ultima. Negli Atti degli Apostoli, Luca ci dice che Maria, dopo l'ascensione al cielo di Gesù, era in attesa al piano superiore insieme agli Apostoli, in attesa dello Spirito Santo. E nell'arcata sorretta da queste due trepidazioni cento altre attese struggenti, ad esempio l'attesa di Gesù per nove lunghi mesi, l'attesa di poterlo presentare al Tempio, l'attesa del giorno in cui avrebbe iniziato la sua missione pubblica. E poi l'attesa del suo ultimo rantolo, quando sarà inchiorato sul legno della croce, e l'attesa del terzo giorno, della risurrezione. Attendere, chiosa Don Tonino Bello, infinito del verbo amare, anzi, nel vocabolario di Maria, amare all'infinito. Ecco, miei cari, contempliamo innanzitutto Maria come colei che sa attendere, e ci insegna l'arte di saper attendere. Un'arte che, ed ecco il nostro secondo punto, anche a livello umano è molto importante e chiede maturità, saggezza, pazienza. Nella nostra società iperconnessa e super tecnologica, dove tutto scorre rapidamente, l'attesa è spesso vissuta con grande disagio. È chiaro che ogni situazione è a sé, vi sono anche situazioni che richiedono un pronto intervento. Vi sono casi dove l'attesa è certamente faticosa e logorante. Pensiamo ad esempio all'attesa di un esame diagnostico, del risponso circa una grave malattia. Ma spesso si vivono malissimo semplici eventi di routine quotidiana, ad esempio fare la fila al supermercato, attendere la risposta di un messaggio, attendere il download di un file. Quante volte ci si lascia andare a reazioni spropositate, o si cade nella tentazione di riempire malamente quel vuoto. Altre volte l'incapacità di attendere porta ad agire anzitempo, in modo non ponderato, impulsivo, compiendo gravi errori di valutazione, dei quali poi ci si pente. Magari si tronca una relazione che si poteva ricucire, si dicono cose che lasciano il tempo che trovano, o si sceglie qualcosa che non era il vero bene. E all'incapacità di attendere spesso segue un altro problema, quello di non saper stare, passando da un'esperienza a un'altra, da un lavoro a un altro, da uno stimolo ad un altro, con quella tendenza ad annoiarsi facilmente. Ecco, saper attendere non si tratta di una passiva remissività, di un nulla facentismo in attesa che le cose cambino magicamente, ma saper aspettare che i tempi siano maturi, portando avanti nel frattempo il bene che si è chiamati a compiere. Saper attendere è un valore che anche i bambini possono apprendere. Di fatto più si è piccoli, meno si è capaci di aspettare. Pensiamo al neonato che non appena ha fame piange e non smette finché non viene soddisfatto. Ma con il tempo e una buona educazione, partendo dal buon esempio ricevuto, e da piccoli esercizi anche per invitare all'autocontrollo, i bambini possono imparare e apprezzare l'importanza dell'attesa. Negli anni settanta è stato svolto un interessante esperimento di psicologia comportamentale all'università di Stanford. Uno studioso ha messo a dura prova un gruppo di bambini di quattro anni, a cui veniva richiesto di resistere alla tentazione di mangiare un marshmallow. Lo sperimentatore, dopo averli condotti uno alla volta in una stanza, spiegò loro che se fossero stati capaci di non mangiare il dolcetto in sua assenza, al suo rientro avrebbe concesso loro di mangiarne degli altri. I video dell'esperimento mostrano che alcuni non resistettero alla tentazione, altri invece sì, mettendo in atto una serie di strategie. Chi annusava il dolcetto e poi si allontanava, chi si copriva il volto con le mani, chi provava a concentrarsi chiudendo gli occhi. La cosa interessante è che negli anni successivi all'esperimento originario l'autore monitorò i bambini sottoposti al test. Gli impazienti erano divenuti adulti più insicuri, meno capaci di concentrarsi, più impulsivi. Viceversa, i pazienti avevano ottenuto in media risultati migliori a livello scolastico ed erano più capaci di gestire lo stress e pianificare il proprio tempo. Ritornando ora al Vangelo, come nostro terzo punto, possiamo vedere anche a livello spirituale quanto sia importante saper aspettare e quanto la grazia di Dio ci possa davvero aiutare ancor più a crescere. L'angelo Gabriele reca a Maria un annuncio da parte di Dio, la proposta di un di più inimmaginabile, concepire per opera dello Spirito Santo, essere la madre del Messia, la madre del Figlio di Dio. Luca ci dice che Maria era turbata e si chiedeva a che senso avesse un tale annuncio. Vedete, Maria era turbata, scossa, ma lei non reagisce distinto, non fugge, né tantomeno dice un sì frettoloso, banale, inconsistente. No, Maria riflette, si interroga, resta in dialogo con l'angelo. Al contempo l'angelo, davanti alla disponibilità di Maria e anche davanti alla sua ragionevole necessità di comprendere, l'accompagna, l'aiuta a capire come tutto ciò sarà possibile. Potremmo dire così, l'angelo dà tempo a Maria di maturare. Questo è molto bello, miei cari. Amare significa saper attendere, significa saper anche attendere i tempi degli altri. Maria dunque ascolta, riflette e giunge ad un sì pieno, consapevole, gioioso. Ecco, miei cari, Maria è colei che sa attendere, che sa discernere, che sa decidere. E la capacità di saper attendere, Maria la eserciterà e la coltiverà anche nei momenti più difficili. Basti pensare ai piedi della croce. Maria è lì, addolorata ma ancorata alle promesse del Signore, sofferente ma credente, ferita ma rapita dalla certezza dell'amore provvidente di Dio. Mie cari, noi tante volte non sappiamo attendere perché non solo non riusciamo a gestire i nostri impulsi, ma vorremmo che la realtà andasse ai nostri ritmi, come se tutto dovesse ruotare attorno al nostro piccolo io egocentrico, dimenticando che non siamo noi Dio e che i tempi di Dio non sono i nostri. Maria ci insegna proprio quest'arte, imparare ad andare al ritmo di Dio, attendendo i suoi interventi. A tal proposito c'è un passo molto bello nel libro delle Lamentazioni che dice è bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. Papa Francesco ha fatto notare che questo è un punto di arrivo, non di partenza. L'autore giunge a questa consapevolezza, non per sentito dire, ma perché ne ha fatto esperienza. Per arrivare mie cari a questa fiducia in Dio è necessario attraversare una lunga trasformazione interiore, che mediante il crogiuolo della sofferenza porta a saper attendere in silenzio, cioè con pazienza fiduciosa, con animo mite. Questa pazienza non è rassegnazione, perché ad alimentarla è l'attesa del Signore, la cui venuta è certa e non delude, com'è importante l'arte di attendere il Signore, custodendo soprattutto nei momenti di prova un silenzio carico di speranza. Continua il Papa, ognuno di noi ha bisogno di maturare in questo. Davanti alle difficoltà e ai problemi della vita, è difficile avere pazienza e rimanere sereni. Serpeggia l'irritazione e spesso arriva lo sconforto, e si è così tentati dal pessimismo e dalla rassegnazione. Talvolta nella prova nemmeno i bei ricordi del passato riescono a consolare, perché l'afflizione porta la mente a soffermarsi sui momenti difficili. E così cresce l'amarezza, sembra che la vita sia una catena continua di sventure. A questo punto, però, il Signore imprime una svolta, proprio nel momento in cui, pur continuando a dialogare con Lui, sembra di toccare il fondo. Nell'abisso, nell'angoscia del non senso, Dio si avvicina per salvare. E quando l'amarezza sembra raggiungere il culmine, all'improvviso rifiorisce la speranza. Nel vivo del dolore, chi sta stretto al Signore, vede che egli dischiude la sofferenza, la trasforma in una porta attraverso la quale entra la speranza. È un'esperienza pasquale, un passaggio doloroso che apre alla vita. E questa svolta non accade perché sono scomparsi magicamente tutti i problemi, ma perché la crisi è diventata una misteriosa occasione di purificazione interiore. Il dolore resta un mistero, ma in questo mistero possiamo scoprire in modo nuovo la paternità di Dio che ci visita nella prova e arrivare a dire con l'autore delle lamentazioni, buono, è il Signore con chi spera in Lui, con colui che lo cerca. Cari fratelli e sorelle, contempliamo la Vergine Santa, Madre dell'attesa. Chiediamo al Signore il gusto e la forza di saper attendere, attendere il momento giusto, attendere la venuta del Signore, che il Signore ci dia davvero la grazia di saper conformare i nostri passi ai Suoi e il ritmo del nostro cuore al ritmo del Suo, che ci ama, ci sostiene e sempre ci viene incontro. Che il Buon Dio vi benedica pace e bene a tutti!